Chiamo il professor Boris Susani dell'università di Bolzano e il professor Tavella dell'istituto di tecnologie didattiche di Genova. Buongiorno a tutti, nonostante il mio aspetto in realtà sono un pochino grezzo e non ho preparato PowerPoint perché sono un po' pigro in genere, però ho trovato questa giustificazione bellissima direttamente dal Guardian e visto che qua siamo appunto insegnanti, parliamo sempre di critical thought, critical skills, tutte queste cose, 21st century skills e così via, troverai anche questa giustificazione. Perfetto, scusate. Vedere che comunque anche il Guardian sono arrivati a quello che diciamo da un bel po' di anni che il PowerPoint per la didattica è una schifezza, mi consola e praticamente giustifica la mia reiterata pigrizia. Io sono qua per parlare di videogiochi, poi vieni anche tu perché comunque. Aspetti di videogiochi, a me interessa molto parlare di una cosa che non viene toccata tanto in ambito scolastico e secondo me dovrebbe, Alessandro prima ha citato delle statistiche che erano quelle appunto di Hollywood che ha raggranellato qualcosa come 10 miliardi di dollari nel 2014, i videogiochi ne hanno fatti 21.4 miliardi di dollari. La musica che sia online o comunque anche su supporto fisico è arrivato a 7 miliardi, sommiamo la musica più il cinema, non arrivano a quello che fanno i videogiochi in un anno. Questi secondo me sono dati abbastanza importanti perché non so tra i presenti chi videogioca, chi utilizza videogiochi. Ecco, una persona che però scusami ma tu non c'entri, cioè c'entri ma in un'altra, non direttamente come partecipante del convegno e secondo me questo è abbastanza importante, non tanto perché comunque uno dovrebbe mettersi a giocare o meno, però il videogioco è una parte fondamentale di giovani ma neanche tanto. Le statistiche negli Stati Uniti dicono che ormai gli utilizzatori, utilizzatrici di videogiochi, cioè donne, superano gli adolescenti maschi. Qua in Italia, anche nel mondo, abbiamo ancora lo stereotipo del videogiocatore brufoloso, nerd, quindicenne e così via. No, no signori, le donne hanno superato gli adolescenti nell'uso dei videogiochi. E quanti di voi conoscono questo che si chiama Twitch TV? Ostia, complimenti. Praticamente, questo che cos'è? È un canale, è un sito, fondamentalmente fa vedere le partite dei migliori videogiocatori online in streaming in tempo reale. E voi direte, vabbè, che mi interessa. Dovrebbe interessare perché praticamente questo sito è stato acquisito da Amazon nel 2014 per la cifra di un miliardo di dollari. Solo questo. Pensiamoci. One billion dollars. Cosa ci facciamo noi con un miliardo di dollari, un miliardo di euro, anche al cambio in Italia? Eh, ok. Questo canale è stato acquisito per questo. Ci sono ogni giorno qualcosa come 500-600 mila utenti al giorno connessi. La CNN nello stesso periodo del 2014 ne faceva 750 mila, però non lo conosce quasi nessuno, se non gli appassionati. Riflettiamo appunto anche su questo. Altro discorso che guardavamo, per esempio, questi sono i dati dell'utilizzo medio giornaliero degli adolescenti dell'utilizzo dei media. Praticamente nove ore al giorno, di cui sei ore e quaranta sono ore che stanno davanti a uno schermo, che sia la televisione, cellulare, tablet, console e quant'altro. Sono dati fondamentalmente, cioè, sono dati importanti. Possiamo anche dire che appunto queste nove ore, un bel po' siano come stare lì a guardarsi la televisione, perché vorrei vedere anche di queste ore qui quale siano quelle dedicate alla creazione di contenuti e quante invece sono semplicemente quelle di fruizione e basta. Che io sto a guardare lo schermo, guardo appunto, sto su WhatsApp, oppure leggo qualche cosa, mi guardo i video e quant'altro. Infatti loro poi dicono multitasking, the new normal. A parte che io non credo nel multitasking. Facciamo tante cose spezzate magari in pochi secondi, però non è che ci possiamo concentrare su una cosa o su un'altra. A parte l'ascolto magari della musica, come dicono queste statistiche, listen to music, 76%, ma questa è una cosa che facevamo praticamente tutti quando eravamo adolescenti, quando facevo, almeno io, nato con i primi anni 80, avvento del Walkman, facevo i compiti, mi ricordo soprattutto quelli di inglese e quant'altro, con le cuffiette. Ok? Questa è una cosa che viene fatta ancora di più probabilmente oggi, perché tutti con il telefonino c'era un video abbastanza interessante, la ragazza che faceva i compiti e teneva questo davanti, che faceva, cioè praticamente riproduceva musica. Ok? Ma anche qui bisognerebbe vedere poi questi compiti, com'è che vengono fatti. Cioè, ok, se io poi ogni cinque secondi sto a controllare a mio profilo di Facebook, sto messaggiando agli amici e così via, non vorrei entrare nel discorso della qualità poi del lavoro prodotto dal ragazzino. Però questo è quello che è adesso il contesto. Quindi, partendo anche prima da quello che dicevo, un discorso economico che noi qua in Italia non affrontiamo, perché comunque siamo sempre abbastanza partigiani e quindi il discorso per noi è videogioco no, o videogioco sì a priori, senza comunque cercare di avviare anche un discorso critico, serio, che comunque tenga conto del fatto che i numeri parlano chiaro. Cioè, non è che ci si possa nascondere, come si diceva appunto, siamo partiti da il vecchio cellulare Nokia che aveva lo Snake, ci abbiamo più o meno giocato tutti, fino a Zynga che ha 13 milioni di minuti di gioco, miliardi scusate, di minuti di gioco. Oppure, era ovvio che sono quelli che hanno fatto Angry Birds che hanno superato il miliardo di download, per un gioco che personalmente ritengo veramente una schifezza immonda, stupido e veramente anche brutto. Però, per esempio, il mobile gaming, cioè il gioco tramite cellulare, le ultime cifre si attestano sui 33 miliardi all'anno nel mondo. Praticamente, nel 2015 si dice che si aveva 54 miliardi. Anche questi sono dati che fanno abbastanza riflettere. Perché anche lì bisogna vedere, cioè, io do un cellulare a un ragazzino, i contenuti in buona parte magari sì sono gratuiti, ma quanti poi invece dicono, beh dai, spendi l'euro al mese che ti do questo, spendi questo, spendi quest'altro. Sono comunque tutti soldi che come genitore uno sa dove vanno a finire. Ok. Dicevamo altri, ecco, 65% delle case negli Stati Uniti, le persone giocano a videogiochi. Poi c'è anche un attimo da distinguere la questione, cos'è il videogioco. Perché a me è capitato di discutere per quasi, cioè, ogni volta che vado, magari parlo con degli adolescenti o studenti universitari e chiedo, ma chi è che videogioca? Nessuno cazza la mano. Poi però magari cito Fanville di Facebook, cito Angry Birds e subito ce ne sono almeno un 30% di persone che alzino la mano. E mi viene da chiedere, ma quello secondo voi allora che cos'è? Se proprio non è un videogioco. Ok. Quindi magari c'è anche una questione un po' di definizioni, però questo è tutto un discorso che secondo me in Italia manca. Mentre gli anglosassoni hanno comunque già un corpo di critica videoludica abbastanza, che incomincia comunque a formarsi abbastanza interessante, da noi manca completamente. E manca soprattutto anche un discorso sempre sui videogiochi nell'ambiente scolastico. Cioè quanti insegnanti sanno comunque interagire da questo punto di vista con i propri allievi, con i propri alunni. Che non vuol dire mettersi lì e diventare i più bravi a Call of Duty o, che ne so, appunto tornando sempre all'esempio di Angry Birds, però capire di che cosa stanno giocando i propri alunni. Per esempio io sapevo di ragazzi, di ragazzini a otto anni che erano stati esposti e si mettevano a giocare a Grand Theft Auto, che è un gioco concretato al minore di 18. Nessuno si pone, cioè quanti genitori si pongono questo problema? Però lo stesso genitore dice, ah no, non faccio mica vedere a mio bambino di otto anni l'ultimo tango a Parigi. Perché? Non gli do da leggere l'Ulisse o l'amante di Lady Chatterley. Perché? Mentre invece il videogioco uno non ci pensa e glielo do in maniera totalmente acritica. E questo secondo me è un discorso che sta andando avanti da un bel po' di tempo e non ci pensiamo, non ci vogliamo assolutamente ragionare su questo, però secondo me bisogna incominciare a capire che cosa diamo ai nostri bambini quando praticamente usano l'Xbox, usano il Playstation o soprattutto la Playstation è molto più controllabile perché ce l'hai in casa, quando gli diamo questo. Basta. Grazie.